E' il cane che si sta chiesto. No, no. Ma c'è tempo. Ma lo fai a posto o a posto? Mi fai legge perché non lo fai a posto. No, legge. Stiamo facendo un numero che è iniziale. Sto anche da stare più gente. Ecco nel partito anche Udo. Udo, vergognati.